Il 25 febbraio Alex Eusepi avrebbe compiuto 39 anni, ma nei primi giorni del 2022 il destino l'ha strappato prematuramente dall'affetto dei propri cari. Nel giorno del compleanno di Alex, i giovani democratici di Pesaro hanno voluto onorare la memoria del vigile del fuoco peserese costantemente impegnati in una cittadinanza attiva nelle file del Partito Democratico, piantumando un ulivo in piazzale d'annunzio. Lo hanno fatto al termine di un venerdì all'insegna del rispetto e della tutela dell'ambiente che presso il municipio di Pesaro ha convogliato le tante progettualità di giovani democratici, Cleaners Team e dei ragazzi vincitori del premio Mad for Science del liceo Marconi di Pesaro. All'orizzonte a breve termine c'è la manifestazione Fridays for Future del 25 marzo, senza termine invece il ricordo e l'affetto per Alex. Al termine dell'evento abbiamo scelto simbolicamente di piantare questo albero alle mie spalle, un olivo, per ricordarci che comunque la lotta per l'ambiente è una cosa molto importante e questo voleva essere un simbolo per ricordarci che un albero è vita. Ed è vita anche perché oggi sarebbe stato il compleanno di un nostro caro amico e compagno del nostro Partito Democratico, Alex Eusepi, l'abbiamo voluto a lui insomma dedicare assieme alla famiglia e a tutti gli amici che sono venuti oggi per piantare insieme a noi l'albero.